Woodsboro, 2010. Dopo oltre dieci anni dagli omicidi originali, Sydney Prescott è diventata un'autrice di manuali di autoaiuto e per pubblicizzare il suo ultimo libro, Fuori dall'oscurità, compie un tour promozionale, la cui ultima tappa la riporta alla sua città natale, Woodsboro. Qui ritrova lo sceriffo Linus Riley e Gail Withers, ora sposati, e riallaccia i rapporti con la zia materna Kate Roberts e la giovane cugina Jill, che frequenta il liceo locale. Con il ritorno di Sydney, tornano a Woodsboro anche gli efferati omicidi di Ghostface, che dopo oltre un decennio sconvolgono nuovamente la tranquilla cittadina californiana. Dopo il massacro di due liceali, Jenny Randall e Mernie Cooper, Linus avvia le indagini per dare la caccia al nuovo serial killer con l'aiuto della giovane vice sceriffo Judy, infatuata del suo superiore. Gail vorrebbe parteciparvi da vicino, ritrovando lo spirito dei vecchi tempi, ma poiché il marito sente il peso della carica che ricopre, viene tenuta lontana dalle attività della polizia. Intanto Jill e le sue amiche Kirby e Olivia ricevono delle telefonate minatorie da Ghostface che tendono a sottovalutare, mentre il cellulare utilizzato dall'assassino viene trovato nell'automobile di Sydney. Linus decide quindi di tenere due agenti di guardia davanti all'abitazione di Sydney e Jill. Tuttavia, la prossima vittima, designata dal killer, si rivela essere Olivia, che vive poco distante dalla casa dei Roberts. Ricomincia quindi l'incubo di Sydney. Come dieci anni prima, ogni persona a lei vicina finisce per essere uccisa. La quarta vittima è proprio la sua assistente Rebecca. Nel frattempo, Gail non accetta la decisione del marito e decide comunque di condurre delle indagini per proprio conto per cercare di identificare e fermare il serial killer. Per cercare di anticipare le mosse dell'assassino, partecipa a una festa presso un fienile isolato, dove gli studenti celebrano l'uscita dell'ultimo film della saga Squartati, con una maratona dei capitoli precedenti. Qui, notando delle telecamere nascoste, scopre che il killer sta filmando i suoi omicidi e dopo aver avvisato Linus, finisce per essere aggredita da Ghostface. Grazie al tempestivo arrivo del marito, l'omicida viene messo in fuga, ma Gail rimane comunque ferita ad una spalla e dovrà essere ricoverata in ospedale. La notte seguente, Sydney scopre che Jill, probabilmente impaurita, è scappata di casa. Immediatamente dopo, viene raggiunta da Ghostface che, dopo aver ucciso i due agenti di guardia, Anthony Perkins e Ross Hoss, aggredisce anche lei e sua zia Kate. Sydney riesce a salvarsi, mentre Kate sarà purtroppo la settima vittima. Dopo aver rassicurato Linus delle sue condizioni, Sydney si mette quindi in cerca di Roberts, raggiungendo l'abitazione di Kirby. Qui sono presenti Charlie con il suo migliore amico, entrambi i cinefili, Robbie, Jill e l'ex ragazzo Trevor, attirato sul posto da un finto messaggio del killer, che sta portando avanti una sorta di remake dei fatti narrati in Scream. I ragazzi vengono infatti aggrediti uno a uno, Robbie è il primo a morire. Arrivata sul posto, Sydney nasconde Jill al sicuro e si rifugia con Kirby in una stanza chiusa a chiave. All'esterno vedono Charlie venire aggredito e legato a una sedia, con il killer che chiede a Kirby di rispondere a delle domande sui film horror, proprio come all'inizio degli avvenimenti di Scream. La ragazza sembra indovinare tutte le risposte, ma quando va a liberare Charlie, questo l'accoltella per poi aggredire anche Sydney. La protagonista cerca di scappare, ma viene bloccata da Ghostface, che si svela essere Jill. Gli assassini sono quindi anche in questo caso due, Charlie e Jill. Quest'ultima, stanca di vivere sotto l'ombra della cugina, ha pianificato tutto per risultare l'unica sopravvissuta e ricevere l'attenzione mediatica avuta da Sydney negli ultimi dieci anni. Spara simulando un'autodifesa a Trevor, colui che dovrebbe risultare il killer. Uccide anche il suo complice, Charlie, e accoltella Sydney, per poi autoinfliggersi delle ferite in modo da far sembrare il tutto credibile. Il suo piano sembra funzionare, ma dopo essere stata portata in ospedale, commette un errore. Parlando con Linus, andato per portarle conforto, esprime il desiderio di scrivere un libro su quanto accaduto con Gale, nella quale si identifica grazie alla stessa ferita alla spalla che entrambe hanno riportato. Particolare che però la ragazza, in teoria, non poteva sapere. Inoltre scopre che Sydney è gravemente ferita, ma ancora viva, e si trova in un'altra stanza dell'ospedale. Linus non comprende subito l'errore commesso da Jill, ma se ne accorge dopo aver parlato con la moglie, ricoverata nello stesso ospedale. Avendo capito quindi il piano organizzato da Jill, si precipita nella stanza di Sydney, con la convalescente Gale, dove le due cugine stanno già avendo una colluttazione. Gale, Linus e la vice sceriffo Judy, accorsa anche lei sul posto dopo essere stata avvisata dal suo capo, fermeranno Jill, che finirà uccisa per mano della cugina, mentre è ormai al centro dell'attenzione dei media che la elogiano come eroina, ancora inconsapevoli degli eventi appena conclusi nell'ospedale. Se questo video ti è piaciuto iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.